salve a tutti oggi vi mostrerò encanto finitura e incanto verticale la trama ecologica materica e metallizzata viene ricreata per decorare la stanza in verticalità aumentando così il senso d'altezza dell'ambiente di grana fine soffice al tocco facile da pulire possiamo procedere con l'applicazione quello che vediamo qua è un pannello che ho preparato in precedenza a cui ho applicato una mano di fondo ultra satel opaco in questo caso nel colore bianco andremo ad applicare encanto di questo colore qui può essere pronto all'uso o leggermente diluito un 5 per cento gli attrezzi che andremo a utilizzare sono questi pennello spagna andremo ora con l'applicazione appunto in verticale andremo a eseguire il disegno è importante applicare con quantità di materiali diverse differenti in modo da evidenziare ancora di più il disegno c'è un'u'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o Per ora abbiamo terminato, ad asciugatura completata potremo ammirare i riflessi metallizzati determinati appunto dalla differenza di quantità di materiale che è stato applicato. Abbiamo finito, grazie mille per l'attenzione, per qualsiasi domanda scrivete nei commenti. Arrivederci alla prossima applicazione.